Musica Bentrovati a tutti e benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Siamo davvero agli ultimi strascichi dell'ondata di maltempo che da domenica ha imperversato sulla nostra regione. La giornata odierna è stata caratterizzata principalmente dalla pioggia che è caduta seppur con precipitazioni abbastanza contenute un po' su tutta la regione. Contemporaneamente si è avuto un innalzamento delle temperature che hanno portato al progressivo scioglimento almeno di una piccola parte dell'imponente coltre nevosa. Gli unici veri disagi odierni si sono registrati in mattinata per la chiusura di un lungo tratto dell'A14 da Fano in direzione nord con rallentamenti di traffiche code verso Cattolica, Riccione e Rimini. Pericolo ghiaccio invece soprattutto lungo la viabilità secondaria ed è ancora consigliata la massima prudenza e comunque non affrontare strade impervie senza gomme termiche o in qualche caso catene. Domani sono previste ancora deboli piogge mentre domenica giornata elettorale, lo ricordiamo per il rinnovo del Parlamento con urne aperte dalle 7 alle 23, cielo coperto con qualche sporadica schiarita. Senza soste il lavoro dei Vigili del Fuoco della Protezione Civile a salvaguardia della pubblica incolumità e per molteplici operazioni di soccorso. Vediamo il servizio di Manolita Scocco. Sono stati oltre 60 gli interventi dei Vigili del Fuoco nella sola giornata di ieri nella provincia di Ancona. Un lavoro H24 legato ovviamente all'emergenza neve ma delle tipologie più diverse, dalla rimozione degli alberi caduti alla rimozione del ghiaccio. Ed inoltre molteplici chiamate da parte di automobilisti in difficoltà e per sgombrare la neve dai tetti con i pericolosi coni di ghiaccio e dalle strade in particolare a Fabriano. A Santa Maria Nuova invece si è registrato ieri pomeriggio l'incendio di un camino all'interno di un'abitazione di via San Francesco. Dopo un accurato ancoraggio, la messa in sicurezza degli operatori, i vigili sono saliti sul tetto e hanno spento le fiamme dall'alto evitando conseguenze più gravi. Solo la canna fumare è stata dichiarata inagibile, non si segnalano invece danni a persone. Decisamente è più tranquilla la giornata odierna. Ed i vigili del fuoco sono anche intervenuti nel località Montelago di Sassoferrato per soccorrere circa 20 cavalli allo stato brado. Per raggiungere gli animali, i pompieri hanno dovuto liberare due chilometri di strada da 80 centimetri di neve. Raggiunti i cavalli, il proprietario è riuscito a foraggiarli. E tornando alle elezioni, se domenica si voterà per Camera e Senato, ci sarà poi la tornata delle amministrative per il rinnovo dei consigli comunali. Nelle Marche si andrà nuovamente alle urne ad Ancona e con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno, previsto laddove si ha una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, a Falconara Marittima, Grotta Mare e Porto Sant'Elpidio. A Castelvi Lamari, Patranzone, Ussite e Penna San Giovanni sono stati indetti i comizi elettorali per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato. Ne parleremo ovviamente in seguito. Siamo ora alla cronaca. Un 83enne Cesare Silvestri è morto ieri pomeriggio proprio mentre stava spalando la neve di fronte alla sua abitazione in Via Arcangeli, nel quartiere di Colleverdi a Macerata. Appena lanciato l'allarme sono giunti sul posto i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, probabilmente avvenuto a causa di un malore. È morto invece sul divano di casa Montecchio di Vallefoglia Rocco Orlando, 42 anni, operaio, sposato e padre di un bambino di 7 anni. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità ieri mattina, che ha lasciato nel dolore più profondo amici e parenti. Anche qui a nulla è servita la richiesta di aiuto al 118 della moglie Michela. Qualche spiraglio sul tragico caso di Pamela Mastropietro, la giovane romana. Infatti, pur avendo assunto droga, non sarebbe morta per overdose. Le indagini comunque proseguono. Vediamo. Squarci di luce nell'intricatissima vicenda relativa alla morte di Pamela Mastropietro, la 18enne il cui cadavere è stato ritrovato, fatto a pezzi in due trolley, il 31 gennaio scorso a Pollenza. I resti della ragazza hanno cominciato a fornire delle indicazioni preziose nelle relazioni preliminari dell'anatomo patologo Mariano Cingolani e del tossicologo Rino Froldi, depositate ieri. Per il primo, stando alle indiscrezioni trapelate, la morte della ragazza sarebbe avvenuta a seguito di due o forse più ferite riscontrate all'altezza del fegato. Il secondo, in particolare, è invece escluso l'ipotesi che il decesso sia avvenuto per overdose. In vari organi sono state trovate tracce di morfina, segno che la 18enne ha assunto eroina che si deteriora con il passare del tempo in morfina base. Tuttavia, in caso di overdose, secondo il perito della Preocura, lo stupefacente tende a concentrarsi nella parte del corpo in cui è venuta l'assunzione. Ieri c'è stato un nuovo sopralluogo dei carabinieri nella casa in via Spalato, foto e misurazioni di piastrelle e stoffe. Sono stati anche sequestrati i guanti lattice rimasti in un pacco. Contenere lo spopolamento dei piccoli insediamenti collinari e montani sostenendo interventi di riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali. È l'obiettivo del prossimo bando del programma di sviluppo rurale 2018 che assegna risorse ai comuni con meno di 5.000 abitanti e alle borgate con meno di 700 residenti. La Giunta regionale delle Marche ha approvato i criteri per emanare il bando che interessa centri abitati con carattere storico architettonico di pregio e nuclei di antico insediamento. Dovranno ricadere nelle aree leader, dove i progetti sono realizzati dai GAL, gruppi di azione locale con partenariato pubblico privato e in quelle interne programmi quadro delle aree rurali. Ci sono 11,4 milioni di euro per interventi di riuso e riqualificazione dei centri storici e la realizzazione di piccoli impianti di teleriscaldamento da energia rinnovabile di pubblica utilità. L'infrastruttura dovrà essere di piccola scala con un costo di realizzazione sotto i 300.000 euro. Il meglio del Made in Marche al Fermo Forum da domani a lunedì tipicità con 120 esperienze diverse nell'arco di tre giornate. Vediamo. Ci siamo. Tipicità 2018 apre le porte del Fermo Forum per mostrare il patrimonio gastronomico, culturale, turistico e artigianale della nostra regione. Il meglio del Made in Marche verrà raccontato attraverso 120 esperienze diverse in tre giornate, da domani, sabato 3 a lunedì 5 marzo. Tutte da vivere. I padiglioni saranno aperti dalle 9.30 mentre la cerimonia inaugurale della ventisesima edizione è prevista alle 15.30 con le autorità e i partner seguita dal forum sul tema della qualità e del legame profondo tra cibo, paesaggio, identità e cultura. Tre padiglioni tematici Wine & Food, Experience and Art & Genius ai quali si aggiungono quelli previsti nel centro storico di Fermo per tipicità in The City. Molti convegni, poi la presentazione del circuito delle piccole Italie il corso di formazione per giornalisti fino alla storia di acqua e acquedotti nelle province di Fermo e Ascoli Piceno Riflettori accesi anche sull'Accademia con numerosi cooking show alla presenza di chef rinomati Nutrito anche il calendario di eventi di tipicità for kids con attività e laboratori divertenti destinati ai più piccoli Tipicità è organizzata dal comune di Fermo con un bibanca nel ruolo di project partner e con la collaborazione della regione Marche delle università di Ancona, Camerino e Macerata insieme ad una nutrita squadra di enti locali di tutta la regione Biglietto d'ingresso ad 8 euro chiusura padiglioni alle ore 21 Info su www.tipicità.it E siamo ora alla pagina sportiva le abbondanti nevicate dei giorni scorsi lo ricordiamo hanno determinato il secondo rinvio consecutivo dei campionati dilettantistici regionali dall'eccellenza alla terza categoria i vi compresi i tornai giovanili gestito dal comitato Marche della Lega Dilettanti si va verso il posticipo dei termini della stagione regolare anche per non intassare il calendario con turni infrasettimanali ma anche in Serie D la nona giornata del giorno di ritorno sarà quantomeno dimezzata già disposti rinvii di Campobasso Recanatese per motivi legati alle elezioni il match che sarà recuperato sabato 10 marzo e stoppa anche per Castelfidardo Avezzano in campo domenica 11 marzo e Fabriano Cerreto Pineto Andiamo invece ad alcune gare che si disputeranno a partire dalla Serie B dove l'Ascoli al Del Duca attende la Salernitana domani alle 15 nella terza gara in 8 giorni per la compagina allenata da Serse Cosmi sfida delicatissima per i bianconeri sempre penultimi che dovranno fare a meno di Tommaso Bianchi che va ad aggiungersi alla lista dei lungodegenti arbitra l'esperto Nasca di Bari in Serie C rinviata Fano Gubbio ancora diversi centimetri di neve sul Mancini mentre sicuramente in campo la San Benedettese alle 16.30 a Riviera contro il Renate rivelazione della prima parte della stagione ma ora in netto calo di rendimento vediamo invece dal servizio gli impegni delle nostre compagini di Serie D almeno quelle che potranno scendere in campo programma ridottissimi in Serie D e si potrà giocare regolarmente solo nei pochi campi risparmiati dal Burian non dovrebbero correre rischi le gare delle due incontrastate dominatrici del campionato la vista a meno 4 sarà a Grottamare per affrontare il derby contro Monticelli sempre più decimato dalle assenze Stallone in particolare deve rinunciare a due dei tre difensori centrali ossia Sosi e Bassini e contro l'attomico attacco pesarese con i vari Olcese Baldazzi, Bonocunto, Cruze e Ridolfio un enorme handicap i Piceni getteranno sul piatto della bilancia le loro armi più congeniali ossia corsa, agonismo e volontà difficilmente però potranno bastare la strada per la salvezza passa per altri lidi di spessore è decisamente più ardo l'ostacolo che attende la leader Matelica sempre in trasferta il campo di Agnone è problematico per mille motivi tanto più che la compagine di Pinuccio Di Meo più che mai si contraddistingue in questa stagione per la determinazione feroce che getta settimanalmente in campo facile prevedere che l'ardore coniugato alla lucidità saranno gli aspetti prevalenti nel match del Civitelle molto interessante il derby tra San Giustese e Iesina i rosso-blu senza Usai la Ringe e Prosmans cercano di conquistare quella manciata di punti che ancora mancano per la definitiva tranquillità i proclami sono da tempo chiari prima si raggiunge la quota salvezza meglio è gli altalenanti leoncelli degli ultimi periodi sono indecifrabili il carattere non manca ma per risalire la china ci deve essere ben altra continuità di prestazioni Dopo il Burian e qualche incertezza sulla data della manifestazione torna finalmente il bel tempo e come di consueto i podisti domenica 4 marzo torneranno a correre con la ventunesima marcia della Valle del Chienti l'associazione atletica trotica d'appuntamento come di consueto nella nuova zona Pegaso di Trotica partenza e arrio in piazza Sandro Pertini e percorsi di gara abituali interamente pianeggianti la gara è valevole sia come prima prova del campionato di società chilometri 10 e per il Grand Prix Strada Master sia come prima prova del Grand Prix giovanile di corsa su strada per le categorie ragazzi e cadetti la partenza è fissata per le ore 9 al via ci saranno tutte le categorie maschili e femminili dai 18 anni in poi per la gara competitiva FIDAL di chilometri 10 e i cadetti maschi e gli allievi ed allievi per le loro gare competitive sul percorso corto di chilometri 3 ed in coda al gruppo tutti i marciatori per la passeggiata ludico-motoria poi dalle ore 10 e 10 inizierà lo spazio dedicato alle altre categorie giovanili con le gare in circuito cittadino sui 400 metri per gli sordienti poi i ragazzi e le ragazze e in ultimo le cadette saranno presenti i giudici della FIDAL insieme a loro anche la segretaria tecnica del comitato regionale che grazie al cronometraggio elettronico elaborerà le classifiche finali nelle varie gare saranno presenti anche le nostre telecamere per registrare l'intera manifestazione che andrà in onda nella rubrica settimanale starting block di giovedì 8 marzo se subito dopo le tante premiazioni e per la gara competitiva FIDAL di chilometri 10 verranno premiati i primi 40 classificati della categoria maschile under 60 i primi 5 over 60 e le prime 15 classificate della categoria femminile fino ai 60 anni più le prime 3 over 60 per il settore giovanile invece i primi e le prime 3 delle categorie degli esordienti poi i ragazzi i cadetti e gli allievi saranno inoltre premiati tutti i gruppi aderenti e fuori CRM con un minimo di 5 partecipanti ed è ciascuno iscritto alla restituzione del pettorale e del tesserino verrà consegnato come di consuetudine un premio di partecipazione come ormai sappiamo tutto si includerà verso le 11.30 e quindi subito dopo i nostri buddisti correranno ancora presso le urne elettorali visto che il 4 marzo c'è questo importante impegno elettorale nel basket questo è il fine settimana dedicato alla Coppa Italia le Final Four di Serie A2 e di Serie B si disputeranno a Iesi e Fabriano da oggi fino a domenica e seppur non ci sono compagini marchigiane sicuramente lo spettacolo è garantito con una massiccia affluenza di pubblico in particolare dalle piazze più calde come Bologna a Biella o Casale inoltre molteplici iniziative collaterali rivolte ai giovani e dagli addetti ai lavori animeranno questa tre giorni nel frattempo riprende il campionato di Serie A con la VL Pesero che sarà di scena domenica sera contro la Vanola a Cremona alle 20.45 potendo contare sul fondamentale apporto di Rottenay Clark l'ultima arrivata in casa biancorossa che dovrebbe dare un supporto fondamentale al gruppo di coccia spiroleca nella palla a volo si chiude la Superlega maschile con l'impegno del tutto ininfluente della Lube in casa ormai sicura del secondo posto contro la BCC Castellana intanto è stato sorteggiato il primo turno dei playoff a 12 di Champions League con la Lube impegnata contro i Polacchi del Belchatov prima gara in trasferta giornata col brivido la penultima di regola season in a uno femminile Pesero viaggia a Firenze ne parleremo con Giulia Carrare e Gloria Baldi ospiti del volo di Spiker stasera alle 21.30 canale 111 e 22.45 canale 11 e la Lardini Filottrano che affronta un'altra finale per alimentare le sue speranze di salvezza legnano con un occhio anche all'anticipo di domani sera tra Bergamo e Scandicci infine in a due maschile nella Pula Videx in casa contro Bergamo mentre nel purgatorio del girone B scontro diretto per la Golden Plus Potenza Picena sempre sabato alle 20.30 nel secondo turno interno consecutivo contro Mondovim vi ricordo che le notizie di sport e non solo dalla tua regione sul sito www.utvrs.it vi ringrazio per la cortesa attenzione e vi auguro un buon fine settimana Grazie a tutti